Oggi proprio non potevamo non parlare della FA Cup. È davvero incredibile come questo trofeo ogni anno e ad ogni turno si è in grado di regalare delle emozioni uniche ed ogni volta lascia sempre un velo di tristezza negli occhi di chi vorrebbe vedere certe scene applicate anche al calcio italiano. Benvenuti ad un nuovo video di approfondimento su gaycalcio.com. Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, per voi è tutto gratis, ma per noi fa una grandissima differenza, quindi supportateci. Il primo turno della FA Cup ha regalato molte sorprese. Senza dubbio è stato il trionfo delle squadre di non-league. Al secondo turno infatti saranno in dieci a parteciparvi. Tra quelli che vengono definiti Cup Set o Giant Killing, eventi che si verificano quando squadre di categoria inferiore eliminano squadre di categoria superiore, almeno tre meritano di essere citati. Il primo è quello compiuto dal Gainsborough Trinity, attualmente terz'ultimo della Northern Premier League e che vanta, si fa per dire, il record di squadra peggior posizionata in classifica tra quelle ancora in corsa per la finale di Wembley. La squadra tenata da Russ Wilcox ha eliminato Ledesford ai calci di rigore dopo che la gara si era conclusa per 4 a 4. Il Gainsborough Trinity accede al secondo turno di FA Cup per la prima volta dopo 72 anni. Il secondo è quello del Tamworth. La squadra di non-league composta da giocatori semi-professionisti ha eliminato Laddersfield Town che milita in League One. Pensate che tra le due formazioni vi sono ben 57 posizioni di classifica di differenza. Il bello della FA Cup però è proprio quello di annullare queste differenze. I Lambs infatti hanno giocato con una passione ed un coraggio tale che contrasta decisamente con il loro soprannome di Agnelli. Il terzo Giant Killing che abbiamo selezionato è quello perpetrato dal Kettering Town, squadra del settimo livello che ha eliminato il Northampton Town. Tra le due formazioni, le cui città distano circa 30 km, esiste una forte rivalità. La rete vincente, siglata al secondo minuto del primo tempo supplementare dall'ex attaccante del Newcastle Nile Ranger, assume quindi un significato ancora più importante ed immaginiamo che difficilmente sarà mai dimenticata da entrambe le squadre. Perché vi stiamo raccontando tutto questo? Ma la risposta è abbastanza semplice per farvi provare ad immaginare cosa abbiano provato questi calciatori, questi tifosi, queste squadre, queste comunità. La grandezza della FA Cup è proprio quella di annullare le differenze. È una competizione in cui molto spesso Davide si confonde con Golia. E la domanda con cui vi lasciamo è sempre la stessa. Ma per quale motivo non si vuole dare al calcio italiano la possibilità di vivere emozioni simili? Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Io intanto vi do appuntamento sempre qui su checalcio.com. Tutto quello che gli altri non dicono sul calcio d'oltremanica. A presto.